Martì Rampart mi dà un Revenant Usare Rampart Sicuramente è figa Andala qui Ah no forse non è lei Ah Dio signore Vai fammi arrivare sto diamante del cazzo Perché se arrivo a diamante La prossima cosa che faccio sarà giocare a warzone E bestemmiare Ma pesante V2 Razmo V2 Lush Ah me l'ha fregato Che palle Ma il cazzo uso Oh dai sta un po' con la luce Questo è il tuo campione Se stabilite un contatto è meglio che finiate il lavoro Sono la Jumpmaster per questa volta Ci guiderò alla vittoria Vai guidaci Guidaci Direi che possiamo atterrare qui Preparatevi per la battaglia Abbiamo passato la voglia Ma che cazzo di posto è Ma porca di quella Ma perché devo sempre atterrare un posto di merda Eeeh un posto di merda che bello Oh Ma esiste Esiste ancora Pronto Pronto Eh disendo Meglio tardi che mai Figa E' sparita di oca Tuoi amichetti Ah Che è successo Buona informazione Grazie Ok E chi ci sta Una cosa giusta direi Com'è normale Mi servono munizioni pesanti Mi servono munizioni pesanti Si la pistola Si l'aspirapolvere E' il tuo amico Qui c'è un'ottica Distanza ravvicinata Qui c'è una spitfire Per una buona base di fuoco Qui c'è un'ottica Distanza ravvicinata Eh Qui c'è una stabilizzatore canna Livello 2 Non avvicinatevi Apro una camera esclusiva Nemico laggiù Qui c'è un caricatore C'è un caricatore energetico esteso Qui Livello 3 Con Siamo dentro la netta Stanno sparando Che sono a terra segui il tunnel siamo di inerzioni nemico laggiù devo ricaricare il minuto un altro nemico a te dai sto guarendo tengo gli occhi aperti però a posto devo ricaricare i miei studi sei nel loro mirino non sono sicura penso di essere sotto giro mi hanno individuato mi stanno colpendo lancio termite sto ricaricando gli scudi sto ricaricando mi curo copritemi ricarica scudo in corso vabbè in effetti qui c'è un calcio standard livello 3 eh campione eliminato il campione ha fatto una scelta sbagliata abbiamo un nuovo leader uccisioni nuovo leader uccisioni occhi aperti ci credo ci credo vediamo di che passa sto sistemando un portale sto ricaricando sto ricaricando sto ricaricando gli scudi non siamo tutti nell'anello ricarico bersaglio laggiù qui c'è un kit fenice abbiamo un nuovo leader uccisioni fate attenzione pira pulveri forai a ver se più che non stai bene c'è qualcosa che non va figa c'è un culo assurdo ci credo grazie siamo già dentro piazziamoci qui nemico laggiù bersaglio individuato mi stanno colpendo pevoli avrò il fuoco imparano addosso sono a terra ho bisogno di un medico capsula assistenza in arrivo andate pure ma non abbassate la guardia bersaglio eliminato cazzo cazzo ricarica scudi in colma round 3 inizio controllo pesce anello attenzione replicatore in arrivo replicatore in discesa all'inizio controllo oi salto temporale mi stiamo sparando oi orca di quella puttana no cazzo mi sei incarmugliata sta trozzo occolona che sfiga niente mince è stata brava te più 20 dobbiamo ammazzare tipo un soggetto ucciderlo pompa di merda noob ci paremmo che sentire queste cose ci paremmo che ci paremmo che ha detto aspetta non ti sentivo più figa sei anche concentrata alcune volte incredibile è vero incredibile che alcune volte sei concentrata da qua invece io ho sentito due ragazzi come hanno scritto anche in live dopo io puoi sentiti Giuro Ah abbiamo giocato Abbiamo fatto delle belle partite Certo Non abbiamo fatto una strage Ma abbiamo giocato bene Eh esatto Meno male giocando di squadra Si nota subito la differenza Anche Anche se sembra poco Ma in realtà giocando di squadra Tantissimo un aiuto Però Io ho sentiti Sabato O venerdì Adesso non mi ricordo più preciso Vabbè No Lo si dice sabato Dopo venerdì O dopo la pizza No Dove era sabato E Cazzo Era un bravini Dopo certo Nessuno è perfetto Nessuno è un pro gamer Ci siamo impegnati Ci siamo arrivati anche secondi Però più sentiti Uno è sempre offline E quindi vedo sempre che è offline Non posso sapere se c'è uno L'altro gioca qualcosina E dopo smette Boh Eh strano si Mi ha guardato troppo fastidio Possibile Questa è molto possibile Si si fidati Se io ho la maniera Se le rompi I coglioni Il prossimo anello Non è vicino Qui c'è una pitfire Qui c'è un G7 scout Beh non puoi risolvere i misteri dell'universo Senza che nessuno ci ripetta di bene Mazzze Ah no Pesco che c'è perfora cranio Caricatore steso per cecchino Qui Livello 3 Oh zaino Grazie Caricatore steso per cecchino Qui Livello 3 Potrebbe farmi comodo Occhio alle gambe se le avete Faccio saltare la camera esplosiva Ma che puttana mi sono cagato addosso Mi sono letteralmente cagato addosso Ma c'è cosa ti dico Ho un culo Era 99 Mi prendo il volt Qui ci sono Qui c'è un R99 Qui c'è un caricatore leggero esteso Livello 3 Più veloce Grazie La tua riconoscenza è dono gradito In marcia miei cari L'anello Qui c'è un'ottica Distanza ravvicinata Ne ho bisogno Se me l'ha lasciata volentieri Se me l'ha lasciata Se no va Va da meno Grazie Anche lui col cecchino Eh che cazzo Oggi saremo entrambi benedetti dagli dei Mi serve un'ottica per fucile d'assalto E ora a piantare Mi stanno sparando Mamma mia Si fanno da fare Spara Ricarico Fuori uno Usate la mappa come guida L'anello Mi stanno Sono a terra Mi bagno nel sangue Mi stanno sparando La giornata Non voleva Io Questa è una Sì ma non è da solo Capsula assistenza in arrivo Un aiuto dagli dei Ho bisogno di aiuto Il volo tempo non è ancora finito Riccamento scudi Dai dai Bello testino Scudo Scudo Ma mi piace Ah ma Ah ce l'avevo Slend Caricatore esteso per cecchino qui Livello 2 Ah quindi Devo continuare a girare Finché lo trovo al portale Che menata Sto controllando i dintorni Dei nemici sono stati in quest'area Prima ce la fa alla svelta O devi proprio aspettare tanto Mi serve un calcio standard Devo darmi un assiste Uh uh È divertente Sto controllando Nelico vicino Trampolino lanciato Occhio c'è una taffola Più veloce Più veloce Più veloce Nemico proprio qui Ti 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 ho preso l'aria Ho preso l'incisione Qui c'è un calcio standard Livello 3 No l'ho da una tattiva idea Anche se ve preferito Il trampolino E poi vedete Adesso si è riuscita A finire il gioco O roba del genere Ho capito Andiamo da questa parte E ora ti andare Quando sei triste Gira di su Sto controllando l'aria Ah Ti vorrei Questa parte Minchia questa non è che capace Mh Nemico laggiù Occhio tesori C'è un nemico negli Mi stanno scavando Potrebbe esserci qualcosa Da questa parte Poco Ricarico 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 gli scudi Mi prendo qualche secondo Per ricaricare gli scudi Qui c'è un kit felice Ricarico gli scudi Mi prendo qualche secondo Per ricaricare gli scudi Da questa parte Andiamo Andiamo da questa parte Mi spavano Mi spavano L'ho spavata L'ho spavata Lo scudo E' stronza Carico gli studi Andiamo da questa parte Mi sto curando Più veloce Sono sotto tiro Ricarico gli studi Mi do una Vado Mi pare che vi uccidono Figa ma Eh dio Perché sono rimasto qua io Perché Perché sono rimasto qua Che fottuto imbecille che sono Vattene e fatti i cazzi tuoi Alessandro Che idiota che sono Eh questo umore Che idiota del cazzo che sono È morto È morto È morto Bravo Bravo davvero Mi piace a me giocare così Che testa di cazzo Anche io sono rimasto lì Sammy Io devo farmi i cazzi miei Farmi i cazzi miei davvero Vabbè più otto E' così tosto Livello 5 E' così tosto Livello 5 Una corazza Una corazza Guardate Guardate Abbi fiducia nella forza della natura Smoker gamer Questo è il campione di questa partita Ma questi qua hanno già dei nomi decenti Sammy PPG Wolf E Joker Sono dei nomi decenti Non sono dei super nomi Però Non sono neanche da buttare Dai Mercato? Davide la posizione Non ci sono presi Questo mi prende tutto Eh? Eh ho bisogno di un'arma Mi serve un'arma Eh Ecco Guarda l'ho già preso Grazie Pugge anche le muni Scusa Attenzione Nenico vicino Scudo a curto aranciato Ho stabilito un contatto con il Nenico vicino Nenico Contatto con bersaglio Niente paura fratello Di prontare qui Va tutto bene Sto curando un contatto con il E si sale Sto continuo Sto continuo Pianco una granata E te me l'ho toccato Ho eliminato un nemico Ho eliminato un nemico All'uccisione baby Come l'ho detto Un nemico Stanno sparando Suoco Uno in meno Ricarico Padre di tutti i dei Concedimi la vista Manca ancora uno Nemico eliminato Neanche l'assist ho preso Porca di quella Poteva andare a sparargli Prima no? Mi serve anche a me la salute Sto guarendo Datemi un secondo Insieme Troveremo la gloria Faccio vedere il cazzo Fotto Contatto con il nemico Appunto Sono zero Sto controllando Sono sotto tiro Noi Mi devo schiacciare quadrato Ma va un figa E' morto Dai Non ci credo Schiacci quadrato Due volte per ricaricare Lui chiude le porte Sto gioco di merda Porco dio Non ci credo Cazzo Chiudi le porte Non mi piace Che scendi Trovi uno scudo bianco Di merda Sfigato Che non so neanche Per quale cazzo Di motivo Lo mettono Sembra solo Una presa per il culo Con lo scudo lì Dio porco Oh Un culo venzo io stavolta Tu amico E' come la prega La donata di merda Il campionato è nostro Il vento invoca la nostra vittura Finito Eh ma che palla E' sto cazzo Di problema Di sto compiuto Buono Buono Forse non è proprio buono Mi sa proprio Che non è il massimo Ah Dick in the bus In the bus E' cool Ah Dick special Quindi ci lanciamo Facciamo finta Questo potrebbe essere Un buon posto Per atterrare Ma è un posto in merda Arriva ormai Tutto uno schifo Aspetta ancora un po' Ma c'è che ci vanno Quattro squadre No forse no Eh forse c'hanno avuto Una bella idea Eh Andiamo da questa parte Andiamo da questa parte Eh Allora io lo so Cosa credete Cosa credete Cosa credete Abbiamo stato Arma 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 Scudo 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 Inizio conto alla rovescia Anello Il nuovo anello Istante Qui c'è un repito Vedo un cazzo Sto mirino Quanto cazzo Mi ho tolto Servono degli scudi Nuovo leader Uscisi Bra 90 tipi Porco dio Dio Saluto Meno Carico gli scudi Mi servono degli scudi Qui c'è uno scudo Evo Livello 2 Abbiamo un minuto E l'anello è lontano Proprio De nada Nemico laggiù È inutile che c'è il nemico Non c'ho scudi Qui c'è un R301 Abbiamo 45 secondi Se non avete le alet Volete muovere i piedi Capito C'è una torre di lancio qui Ricevuto Contro Versaglio individuato Ok Eh c'è c'è E quindi Andiamo là Va bene Capito Non ho un mirino Vedo un cazzo Mi sparano a me Qualcosa inizio Un po' Un po' Un po' Potrebbe essere divertente Caricamento a cus Dai Dai L'anello si sta muovendo Servire di lui Credo del padre di tutti gli dèi Che facciamo i giri Wow Che bello che è sto gioco Mi prendo qualche secondo Per ricaricare gli scudi Granata Attenzione Andiamo da questa parte Ignorano Mi faccio i scudi Mi faccio i scudi Quindi stiamo qua A guardare in alto Qui c'è una cella a scudo Sto controllando l'aria Grazie E ora vi andiamo Apro il fuoco Oh un mirino Eh niente Se la sono svinata Qui c'è una zip line Oddio Eh prendo questa C'è una torre di lancio L'accevuto Sì Sì Porfavor Finalmente un mirino C'è una torre di lancio Laggiù Ho capito Ignora Come ignorato C'è una torre di lancio Laggiù Passate laggiù Sto controllando I dintorni Apro il fuoco Ricevuto Bersaglio laggiù Oye Vedo del fungo Cosa credete ci sia qui Eh vabbè Potrebbe esserci qualcosa di buono Adesso arrivo Mi era perso di vedere Ah delle pesanti Vedi che l'ho visto bene Ci vedo ancora bene Non proprio al massimo Va bene Cazzo ha rigiuchato tutto Che pregio Ma porca Eh prova ad attaccare Attaccati all'attaccare Ma sapete che è un cazzo di massacro Sto controllando I dintorni Arriva un replicatore Amigos Stile proprio qui Ricevuto È ora di andare Sto controllando I dintorni Andiamo qui Contatto con lo stile Stile individuato Ricarica scudi In corso Contatto Lancio una granata termite Fuoco alle fonde Fuori uno Ricarico gli scudi Mi servono degli scudi Mi cura Ci sta mettendo troppo Ricarico scudi In corso Ricarico Ho eliminato Non preoccupatevi Le mie gambe non si stancano Ho fatto in modo Che non succeda mai più Sto controllando l'aria Livello 2 Alcun'aria No 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 Minchia Ricarico Mi servono degli scudi Ho trovato un caricatore energetico esteso qui Livello 4 Passaggio individuato Nemico laggiù Sto controllando l'aria Sto aprendo il fuoco Ho servito Con il nemico L'anello L'anello Non è montato Restano 30 secondi L'anello Grazie Sì potrebbe servire Che è proprio una troia Eh vabbè Raga Io se non ho scudi Io muoio Provate che cazzo mi pare 10 secondi Più veloce Più veloce Più veloce Grazie Attenzione Anello In movimento L'anello Si sta chiudendo Mi piace Più veloce Eros Arapante 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 Un nemico individuato Bostino proprio qui Madre di tutti gli dei Concedimi la vista Ricarico Dai guarda quanto leva Ricarico Ricarico Stella Arca Ricarico Ricarico Uso un kit fenici Ci servono degli scudi Eh non ho cura Mi devo usare kit fenici Ricarico Ricarico Oh no Un'altra squadra Ci attacca Amici Stiamo cercando gli studi Lanco il trampolino Controlliamo quella zona Non importa Rottima Terza via Nuovo C'è un'altra squadra Siamo sotto attacco Sto controllando i gestori Potrebbe esserci qualcosa di buono Da questa parte Attacco aereo Mi sto riparando Ah bravo Ricarico Ricarico Gli scudi Ok Ok Sto controllando l'area Qualcuno è stato lì Andiamo da questa parte Ok Devo darmi una Servono degli scudi Ora rialzare Oh ma non ci sono degli scudi Sto gioco Ma che cazzo è C'è una scudi Raga Io sono fottuto Quindi dove cazzo andiamo Mi sono presa qualche secondo Che sono i nemici Li attacco Seguo i tuoi muschi Possiamo dare un'occhiata qui Vengo con voi Ah 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 Abbiamo uomini uccisi Servono degli scudi Allora Qui c'è qualcosa che non va Mi vorresti dire che non c'è uno scudo? C'è qualcuno laggiù Mi sparano amici Eh vedete voi Non ho scudi Servono degli scudi Oh ma neanche la cassa da morto Ma che cazzo è? Ah siamo proprio messi nella merda Controliamo quella zona Eh per forza Hai altre idee? Scudi 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 Siringhe Io sparo solo con le siringhe Sto gioco A furi di sparare Mi sono riuscito a caricare Lo scudo a rosso Ma non trovo degli scudi per C'è uno scudo evo qui C'è uno scudo evo qui Wow Non ci credo Non ci sono scudi Sto gioco Nemici avvistati laggiù Sto gioco Sto gioco Sto contro un'altra direzione Mi sparano amici Sono stato abbattuto Attenzione granata Sono a terra Che sono dei nemici Andiamo Crew down È scappato Non ho parole Non ho parole Questi erano senza scudo Vabbè Vabbè Abbiamo capito Che questi non sono proprio capaci Toxic Proprio il vostro nome Toxic Proprio il tuo nome Figa Sei inutile Sto gioco si sta nascondendo Porco Dio Se mi davano male Erano morti tutti e due Tutti e due erano morti Avevamo tutti gli scudi possibili Esistenti al mondo Dentro l'anello Vincerò Poi Tra l'altro Questo è riuscito a beccarsi Nastist Nastist Samy Nastist Nastist Mi sa che ho fatto la kill Mi sa che sono come il suo Più sei E adesso sei fottuto Che cazzo fa Che fagliaccio del cazzo Che fagliaccio del cazzo Noi Che fagliaccio del cazzo Noi Che fagliaccio del cazzo non riesco a trovare gente che sappia sparare, sappia muoversi, noi siamo qua, allora sto coglione ho detto che ci sono nemici, intanto sparavo per cercare di rompergli gli scudi, non si è neanche accorto che gli seguiamo nemici, è finito a terra, morto, uno, vado per andare a rompergli il cazzo perché erano solo i due, si potevano fare, eravamo due contro due, gli sparo e tiro una granata, sparo, mi buttano a terra, mi accompagno e se ne ascolto dietro le rocce. si è nascosto dietro le rocce, questa è la mia squadra e li trovo sempre così figa, ma dovrei usare la Kronos, dovrei cambiare gioco, altrimenti usare la Kronos, ancora c'è legato un errore, amica, ma per favore, che cazzo è sto computer da un po' whitewulp, wulp, 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 che cazzo è wulp, Sammy? questa è una buona zona di atterraggio e cosa vuol dire wulp? wulph wulp 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 wulf immagino inizio tutto alla rovescia anello il prossimo anello è lontano attenzione prima vettica i novellini sono stati e fine il portale porta male no c'è uno scudo bianco di merda abbiamo passato avanti controlliamo quella zona ah però c'era la cosa cazzo ma no devo vedere se c'è perché se la trovo è meglio qui c'è una camera esplosiva state indietro posso saltare la camera questo se mi dava un turbo è mannato no 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 non c'è turbo mi ricarica tutto qui c'è un calcio per cecchino livello 3 lo zaino mi serve uno zaino mi serve un casco qualche scorta extra qui c'è un caricatore pesante livello 2 nuovo leader uccisioni occhi aperti 45 secondi l'anello è lontano non ho bisogno su le mani il mio caro c'è sto mastiff ma non lo vedo mi piace porca puttana questo è scudo però si lo zaino sto gioco è un'impresa vediamo se lo trovo qua sopra qui c'è uno scudo evo livello 1 qui c'è un casco livello 2 occhi ai colpi alla testa qui c'è uno zaino grazie oh oh è certo zaino qui c'è un r301 qui c'è un r301 contiene grandi cose mi spiegherai quando vorrei qualcosa non lo dirai sono messo bene non ho granate ma sono messo bene oh forse è meglio andare amici c'è una torre di lancio qui c'è un caricatore leggero livello 3 vai dobbiamo andare ma che cazzo vuoi fare attenzione una vicella da trasporto lassù bersaglio laggiù bersaglio individuato bersaglio individuato che cazzo è stato meglio voi non mi trovo io per questa gente ascolta ascoltate ah proprio vi ne sbattite altamente il cazzo di me eh che cazzo sta facendo io sono morto io sono morto anche tu sarei morto bravo bravo revenant grande grande revenant bravo 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 mi hanno completamente lasciato da solo mi hanno sparato in due e tra due compagni che avevo nessuno dei due che ha sparato a questi due nemici in due mi hanno sparato in due in due non ho paura di niente ma perdere sarebbe una scocciatura Lavoro duro, bella vittoria Pronta, si va in scena Questo è il tuo campione Corri veloce, colpisci veloce, vinci veloce Devo cambiare server, sono un idiota Ah questo è uno solo Ce la faremo a farcela uno solo Sto controllando l'aria Fantastico Almeno un punto l'abbiamo preso E questa cosa si è fatta ancora buttare a terra Non c'è di che, ora muoviti Qui c'è un otturatore per shotgun Qui c'è un caricatore leggero e stesso Livello 1 Qui c'è uno scudo Evo Livello 2 Tutto mio Qui ci sono munizioni leggere Mi serve un otturatore per shotgun Qui c'è un otturatore per shotgun Livello 1 Ne ho bisogno Qui c'è uno scudo Evo Livello 2 Qui c'è uno scudo Evo Livello 2 Allora quanti cazzi di scudici sono per lì Qualcosa Qui c'è un caricatore leggero e steso Livello 2 Grazie Qui ci sono munizioni leggere La tua riconoscenza è dono gradito Grazie Oggi saremo entrambi benedetti dagli dei Sto saccheggiando lì per favorire la nostra lotta Bello Bello questo doppiaggio di gente Ma non capisci anche L'anello non è vicino Qui c'è uno stabilizzatore canna Controlliamo quella zona Centro un robottino arrapato Tutto mio Qui c'è uno spitfire Ne ho bisogno Io su cosa aveva bisogno della spitfire Diciamo con 80.000 colpi Finito Donami la vista Qui c'è uno scudo ausiliar Qui c'è un otturatore Qui c'è una cella a scudo Tutto mio Dei nemici sono stati in quest'area Grazie Perché non me lo ho detto Attenzione Anello in chiusura Usate la mappa L'anello si sta muovendo Ok Ok Capsula assistenza in arrivo Ho individuato il prossimo anello Seguite la mappa Capsula assistenza in arrivo Ci sono Qui c'è un longbow Qui c'è uno zaino Livello 1 Ci sono munizioni per cecchino R301 R301 o no leggera Grazie Qui c'è un ottica Cecchino Qui c'è un opap Castello Qui c'è un R301 Mi ha convinto Mi ha convinto No per Per l'arma mi ha convinto Individuato Qui c'è uno scudo Evo Livello 2 Mi servono munizioni leggere C'è un caricatore esteso per cecchino Qui c'è un ottica Cecchino Rifornimenti extra da questa parte Qui c'è un caricatore Qui c'è un ottica Cecchino Qui c'è un hemlock Dai un cazzo di mastiff Qui c'è un ottica Distanza ravvicinata Controlliamo quella zona Controlliamo questa area Capito Conseguendo una pista qui per attaccare Andiamo lì per attaccare Let's go for attacking Perché lui ha detto Che segue la pista per attaccare Lui vede le piste Mi servono munizioni pesanti Mi servono delle munizioni Mi servono munizioni leggere Nemico individuato In battaglia Mamma mia Mi fa paura sta cosa Adesso le affumico Nemico laggiù Ripetere Ok Scudi viola Nemico vicino Eh sì Vorrei darti una mano Ma sono occupato in questo momento Sai Non voglio morire Che ce ne andiamo Che te ne pare come dire Che figlio di puttana Ma che cazzo fa Vabbò Oh ma è finito di andare a terra Rimane metà delle squadre Andrà tutto bene Ci penso io Non ci credo Che idea del cazzo 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 una tuonata Adesso ti ammattano Eh sì L'idea è anche di dovermi coprire Eh vabbè Eh vabbè Cioè Questa mi ressa Dopo non è che copro la porta No Per zero proprio Io boh Semmi giocare per finta sto gioco Anzi no Prima che fumo una cigaretta Era un piccolino Come va il lavoro È arrivata la macchina Il mio capo Ah già ritirata Ustì Quando Ah ecco perché ha detto Che andava via No Ha detto che andava via Gli abbiamo spiegato la macchina Ah perché va spiegata Troppo complessa la cosa Sì sì Beh sì certo Sicuramente è meglio Spiegare alla persona Che la usa Perché Spiegare a uno che non la usa Non ha molto senso Allora gliela spiegare A sua figlia Principalmente è sua figlia Che la usa Quindi è normale Che sia lei quella Che dovrebbe essere Più interessata Ah il mio capo Ha il covid Ne L'altro Quello Quell'altro Quello basso Robusto Eh vabbè comunque Ha preso il covid Sabato Dove l'ho capito Ha avuto la febbre Però mi ha detto Il capo che l'ha visto lunedì Cioè Cioè a casa Cioè adesso Adesso non si può Su tanti muovere L'ha visto lunedì E E sta bene Ha avuto solo Qualche linee di febbre E basta Ma sai Gli hanno fatto il controllo E da controllo Il risultato Aveva il covid Quindi boh Non si sa Se magari è un falso positivo O se veramente Ce l'ha E Buh Adesso la cosa Che ci preoccupa E sapere Se dobbiamo fare Anche noi Il tampone Perché Eh Il fatto è che Non mi ha più detto niente E Grazie a tutti 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 Ah Grazie a tutti 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 Sto Mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti